Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Grazie a tutti i fatti Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Sì, siamo venuti a qui fuori da Frankfurt, abbiamo vissuto con un filmo, abbiamo escello e abbiamo con un filmo e siamo arrivati con il bus fuori e stavamo in fronte in una esca e poteniamo anche la mano e le stavamo in fronte. E ora è stato ancora in fronte a la bia. Super, spaz, raffreggio, ganserà. Alla che il auto è stato qui fuori, il sound è davvero super. Grazie. Grazie. Perché oggi è stato un giugno, è stato un giugno per me. Io ero davanti al giugno. Il Donut ha l'hanno e a film. No, è stato super, è stato un Traum. Toll organizzato da Red Bull. Grazie a tutti. Per il nome del Fanclubs, o io, per il nome del Fanclubs grazie a tutti per l'inladamento. È stato un bellissimo giorno. Abbiamo avuto un giugno per l'Hippenheim. Abbiamo un giugno per l'Hippenheim. Abbiamo un giugno per l'uomo, cosa voglio più? Super. Se temi a vedere un luogo in quanto gli uomini, la tante delle altre persone, mentre da un ruolo anche davvero molto bene. E per l'info per tutti, un contenuto della Lazia sui, è davvero sempre qualcosa di più di più. È così quando èso l'uomo a fare delle loro utili, in cui credo sia un'uomo, in cui è davvero molto carico. Così sono una posizione di una posizione che ci sia, dove ci siunghiacca, è un diventato un giugno. E ovun certainly non più, ma però magari abbiamo l'uomo. e poi abbiamo ancora una volta che ho avuto. Un bellissimo giorno dopo questo Saisonfinale. Sebastiano in mei miei stadi. E così una colise, super! Non, ci sono sempre alcune attività, alcune attività e appunti. E così si è già già arrivato, che ci siamo arrivati. Vor 4-5 anni, quando qualcuno ha detto, che abbiamo avuto, mi ha detto, è un trauma. ora sono treme maestri, poi con il Red Bull in grado, non lo scopo di più. Sì, abbiamo già 70 km di qui, una delle stesse più stelle della stessa in realtà e il il nostro reso e il Superfinale è quello quello che potrebbe. Questo giusto bucho ha una tradizione, una tradizione in Graz una tradizione. Abbiamo circa 25 Shokarenz Rund um die Welt E'ne è un stesso datum In Sudamerica Ma, ma herrschaft Das è l'unico Il Vettel 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 che ci hanno raggiato, è già assicurato. Il Red Bull Ring non è così vicino. Il Spielberg è solo un Katzensprungo da qui. Abbiamo avuto la possibilità di fare con la Formel 1. La Strecca è assolutamente tautica. Perché non fanno mai più, non lo so. Ma in futuro, non lo so. Tu potresti questo? Sì, assolutamente. Questo è proprio il nostro Grand Prix.